Buonasera a tutti e benvenuti. Oggi vorrei fare un video di aggiornamento sostanzialmente su quello che sta avvenendo sui mercati e partendo sempre da quella che in questo periodo è un po' la causa di tutti i mali beni del mercato, cioè l'aspettativa, perché poi ancora di questo si tratta, non di un vero cambiamento, sui tassi di interesse sia da parte della Federal Reserve americana sia poi della BCE che ormai in modo sempre più evidente praticamente fa da ombra, nonostante in teoria il contesto in cui dovrebbero operare è diverso, ma poi si capisce anche da questo, io spesso parlo di geopolitica per questo, come in realtà è un po' tutto un blocco sempre più fuso insieme, sempre più correlato e unico sia appunto nelle decisioni geopolitiche sia ormai anche a livello finanziario e probabilmente in questo mondo che si sta deglobalizzando progressivamente c'è sempre più questo avvicinamento tra simili e quindi probabilmente questo è il motivo, lo dico perché appunto la notizia di oggi è così, il fatto che da semplici dichiarazioni un po' come magari quando si andava dall'oracolo nell'antichità, magari che ogni frase, ogni parola, ogni gesto era ponderato, così quando parla qualche governatore di banca centrale appunto c'è così questo lavoro di interpretazione quasi onirica di quello che dicono e come è avvenuto appunto per uno dei governatori della Federal Reserve Walllands, su quello che ha detto ieri poi lo vedremo, subito da Davos, dove insomma c'è il noto incontro del World Economic Forum annuale, la governatrice della Banca Centrale Europea sostanzialmente ha subito dato una interpretazione sostanzialmente analoga e cioè il fatto che appunto l'inflazione sta tornando sotto controllo, tutto sta migliorando, l'aumento dei tassi di interesse che c'è stato sta sortendo i propri effetti ma il mercato che avevamo visto nei video precedenti già dava per scontato un immediato o un imminente abbassamento dei tassi di interesse anche magari molto rapido e quindi già apprezzava sui prezzi delle azioni, dei titoli di Stato di tante anche così beni rifugio come l'oro eccetera, un abbassamento dei tassi di interesse e quindi già immaginavo un aumento delle quotazioni per il meccanismo che vi avevo spiegato nei vari video, non sto sempre a ridirlo è bastata appunto questa dichiarazione così di semplice prudenza, poi vi metto in descrizione il comunicato stampa della Federal Reserve proprio quello originale datato ieri 16 gennaio di Walllands in cui sostanzialmente ha detto anche con molta cautela insomma che diciamo i dati che abbiamo ricevuto negli ultimi mesi ci consentono di valutare insomma ecco di considerare di ridurre i tassi di interesse nel 2024 tuttavia preoccupazioni sulla sostenibilità di questi dati, di questi trend di dati, diciamo questo andamento richiede che i cambiamenti nella politica monetaria siano calibrati con cautela e con carefully insomma quindi con attenzione e not rushed quindi significa senza troppa fretta quindi è bastato dire sostanzialmente questa era la frase incriminata di dire prevediamo di fare dei tagli sui tassi di interesse ma non saranno così immediati quantomeno dovremo valutarli quindi già dando così l'indicazione diciamo l'ipotesi che magari non saranno quindi imminenti come probabilmente il mercato già dava per scontato che subito ieri il mercato americano lunedì era chiuso c'hanno infinità di giorni che sono chiusi la borsa americana, c'hanno tutte feste strane praticamente spesso sono chiusi e appunto quindi diciamo la settimana è ricominciata ieri ha avuto così un calo non eccessivamente significativo anche perché la notizia in realtà è arrivata dopo questa notizia ma insomma oggi già invece l'Europa sta aprendo diciamo con molto nervosismo anche ieri diciamo non è andata un gran che bene la borsa in particolare oggi l'indice DAX tedesco questo è il dato di adesso quindi qualche ora prima che caricherò il video perde l'1,1% il FUZI che è quello inglese meno 1,46 quello francese il CAC meno 1,12 il nostro FUZI MIB meno 1,05 quindi un calo non un crollo ma insomma un calo abbastanza significativo che si somma a questo inizio 2024 che abbiamo visto non è stato per ora molto brillante e come dicevo c'è un po' l'effetto ombra Federal Reserve Banca Centrale Europea perché appunto ecco che da Davos la governatrice della Banca Centrale Europea Christine Lagarde adesso ritrovo l'articolo che ne ho tirati fuori parecchi comunque essenzialmente insomma avrebbe dichiarato che anche la Banca Centrale Europea starebbe valutando diciamo con cautele ecco qui un articolo di Milano Finanza poi vi metto tutto in descrizione BCE per Lagarde i primi tagli ai tassi potrebbero arrivare in estate ma le scommesse nel mercato non aiutano la lotta all'inflazione qui dice appunto il numero 1 di Francoforte ha spiegato che il momento cruciale arriverà nella tarda primavera tra aprile e maggio quindi ecco non il taglio imminente che prevedevano ma parlavano ecco di già valutarlo oltre primavera quindi implicitamente dire che nei prossimi mesi per ora dovrebbero rimanere così tassi di interesse insomma livelli che come avevamo visto sono alti per come eravamo abituati negli ultimi 10-15 anni ma che poi storicamente 4-5% diciamo sarebbe la normalità in teoria del costo del denaro ma invece in quel caso eravamo abituati a tassi a zero denaro sostanzialmente gratuito in termini di costo del credito e quindi ovviamente questo avevamo visto aveva creato tutta una serie di distorsioni di mercato favorito molte imprese basate sull'indebitamento sull'aspettativa su tutta una serie così di scontare sul valore di borsa di oggi utili eventuali futuri quindi questo spiega anche perché quando arrivano queste notizie se vedete soprattutto certi tipi di società in particolare quelle magari più tecnologiche quelle soprattutto magari basate su un modello di business appunto di questo genere di scontare magari oggi non avere utili addirittura avere perdite ma essere così dipendenti molto dal credito bancario in generale dal credito magari anche emissioni di titoli obbligazionari magari anche semplicemente emissioni di nuove azioni quindi infatti tutte le AIPO initial public offerings diciamo quotazioni di società che ci sono state l'anno scorso molte di queste avevamo visto sono andate proprio a picco perché appunto però perché avevano venduto così tanti titoli perché c'era in quel contesto ancora di tassi abbastanza bassi un anno, due in particolare due anni fa così l'aspettativa di anche così l'idea più di usare l'investimento non come prestare soldi o comunque investire su una società che dà dividendi eccetera ma sostanzialmente fare scommesse quindi proprio puntare su quelle società magari con il ricordo di quanto hanno fatto in termini di aumenti di borsa società come Tesla o altro quindi proprio la scommessa di dire voglio magari questa magari sarà la nuova Tesla il nuovo Facebook il nuovo non lo so Google eccetera quindi scommettere soprattutto in fase di quotazione ma perché il modello di business era questo società che magari non avevano una storia o avevano solo perdite o comunque pochissimi utili rispetto al valore di borsa che però diciamo era proiettato su un'idea di dire sì ma tutto quello investono nell'attività crea valore crea clientela infatti se ricorderete un anno e mezzo fa circa il crollo che per esempio ebbe Netflix per questo motivo semplicemente perché erano calati un pochino gli iscritti gli abbonati di tu adesso non ricordo vado a memoria mi sembra che non è che erano proprio calati in termini assoluti ma cresciuti meno di quanto crescerono quindi era ridotto questo trend di crescita e già lì arrivò uno scossone sul prezzo proprio perché c'è questo effetto proiezione effetto leva quindi questo è molto appesantito e danneggiato da un aumento dei tassi di interesse anche piccolo appunto perché c'è questo effetto iperbolico di leva e a quel punto diciamo danneggia queste società sotto due punti di vista l'avevamo già visto insomma brevemente il primo è che appunto se sono società molto indebitate basate su il credito bancario comunque obbligazionario eccetera devono pagarlo molto di più soprattutto se sono molto indebitati un conto è fare prestiti quasi allo 0% quindi gratis anche in un contesto di credito facile poi bisogna vedere anche quanto è facile il credito eccetera ma anche quello è legato un po' magari cominciare a pagare un 5-6% pesa sugli utili pesa su quanto loro possono investire sull'attività principale dell'impresa diciamo il business caratteristico cosiddetto e quindi le appesantisce un po' come una zavorra soprattutto se il debito è molto e questo ovviamente vale per le società ma vale per tutti i tipi di business privati anche per gli stati che pagano sempre più interessi sul debito pubblico che vengono sottratti dalla spesa pubblica da utilizzare per altre cose poi sinceramente per come spendono i governi a volte non è che dico tutto sommato è un male alla fine cioè non è che tante spese poi cosiddette per la collettività poi alla fine vanno in sprechi tale che quasi gli interessi sul debito pubblico non sono poi in confronto secondo me tanto male però a parte ecco la valutazione ovviamente sono soldi sottratti alla costruzione di ospedali strade in teoria ammesso che li facciano e non li chiudano eccetera eccetera poi ripeto bisogna sempre vedere come li spendono realmente quindi vale per le società private i governi come dicevo quindi il primo aspetto che i tassi interesse fanno danneggiare le società e quindi anche i prezzi di borsa è che appunto se sono indebitate comunque costa molto il credito o di più e il secondo motivo appunto è per quell'effetto alternativa appunto perché si aumentano i rendimenti sui tassi sui titoli di stato appunto per effetto dei tassi di interesse quel tipo di società quel tipo di investimenti in società soprattutto magari come dicevo in generale società anche che danno dividendi che magari sono un 3-4% magari un titolo di stato rende senza in teoria rischi insomma in maniera prevedibile sicura magari un 5% ugualmente quindi a quel punto la tentazione potrebbe essere quella di passare l'investimento da azioni che magari danno sì un 3-4% di dividendo ma bisogna vedere poi se la società effettivamente fa quegli utili se poi decide di distribuirli tante volte anche a livello fiscale il dividendo è tassato al 26% in Italia mentre magari rendimenti su titoli di stato non solo italiani ma anche di altri paesi quasi di white list magari sono tassati al 12-50 quindi anche quello fa la differenza e in più appunto magari il titolo di stato ovviamente è molto variabile sul mercato se le scadenze si allungano insomma chi ha avuto la sfortuna di sottoscrivere i BTP futura lo sa insomma quanto sono sotto la pari oggi però in generale soprattutto un titolo di stato magari a breve scadenza ecco salvo che vorreste andare in default l'emittente si sa che comunque a scadenza restituirà il valore pattuito che di solito è il valore nominale il valore alla pari quindi magari se uno compra un titolo a breve scadenza diciamo riduce questo rischio e quindi anche il prezzo sul mercato anche secondario tende a aggiustarsi ecco insomma se la scadenza è imminente non dovrebbe salire o abbassarsi molto quindi c'è più prevedibilità su un titolo di stato o anche in generale un titolo obbligazionario quindi diciamo toglie appeal cosiddetto alla borsa le azioni ma a maggior ragione ho fatto l'esempio di una società che distribuisce i dividendi ma a maggior ragione l'incentivo a investire su società così a scommessa è maggiore per società che magari sono molto indebitate non fanno utili non distribuiscono i dividendi e diciamo attiravano come investimento solo proprio per quell'effetto scommessa la speranza che quel business dovesse partire gli utili arriveranno in futuro o semplicemente il prezzo di borsa dovesse aumentare perché altri noteranno quella società appunto e aumenterà quindi magari diventerà la nuova tesla nuovo effetto non lo so bitcoin eccetera e quindi quello è il motivo ma anche lì questo era favorito molto da un contesto di tassi a zero addirittura rendimenti negativi sui titoli di stato la follia per cui comprare un titolo di stato fino a tre quattro anni fa praticamente soprattutto se a breve scadenza praticamente faceva sì che si pagava come ricordo sempre più di quello che si riceveva indietro di interesse capitali follia dovuta ecco a quella degenerazione di quantità di vising estremo banche centrali che appunto acquistavano titoli di stato in quantità mostruosa con moneta creata da loro stessi eccetera quindi questo ovviamente aiutava molto gli stati a indebitarsi a interessi quasi nulli però allo stesso tempo diciamo spingeva molto gli investitori appunto a fare a quel punto scommesse vere e proprie su quel tipo di società cercando rendimenti appunto su rischi sempre maggiori più tutto ovviamente favoriva quel mondo di investimenti alternativi in cosietti beni rifugio dovuti sempre a quello magari beni non fruttiferi ma che appunto diciamo erano interessanti come investimento proprio nell'ottica di sostanzialmente sperare che altri poi investissero prima di noi e quindi aumentasse il prezzo parliamo ecco di tutto quel mondo eterogeneo dagli immobili soprattutto di pregio con che immobili teoricamente danno anche potenzialmente affitti canoni di locazione in realtà sono in un certo senso beni fruttiferi ma vedevo dei video per esempio di quei nuovi grattacieli costruiti a Manhattan zona del Central Park così un agente immobiliare spiegava che da parte dei super ricchi quei appartamenti parliamo da 50-80 milioni di dollari l'uno venivano tante volte acquistati e neppure affittati perché a parte devono essere affittati a cifre mostruose e difficile trovare un compratore ma poi tante volte erano comprati proprio come puro investimento cioè comprati lasciati lì tante volte vuoti il proprietario magari ci andava qualche giorno all'anno ma nell'ottica appunto dell'aumento di valore puro e magari di rivenderlo dopo un po' di anni a più del valore in quanto oggetti proprio di massima così apice c'è un punte di diamante del mercato immobiliare globale è un po' il ragionamento che fece Trump già nel suo libro che avevo recensito The Art of the Deal insomma diciamo l'arte di fare affari del 1987 lui quando raccontava della Trump Tower che appunto aveva costruito sulla quinta strada parte tutta la storia insisteva molto su questo aspetto di lui aver sempre voluto investire a Manhattan in quanto era appunto il massimo era il magari il padre che invece investiva costruiva case popolari su Queens su altri quartieri che magari avevano più potenziali di crescita mentre Manhattan poteva sembrare seppure malfamato ormai così un mercato saturo con mille problemi anche regolamentazioni complicate eccetera lui però insisteva molto sul fatto che quando secondo lui si acquista il meglio a quel punto è un investimento che aumenta molto di valore più del resto sì magari si hanno le occasioni di sottovalutazione ma lui diceva non so Manhattan la quinta strada sul Central Park varranno sempre tanto e varranno sempre più e effettivamente gli ha dato ragione con alte e bassi diciamo quella valutazione se guardiamo agli ultimi 35 anni quindi appunto evidenzio questo aspetto per dire che anche il mercato immobiliare è molto salito però per effetto di questa enorme quantità di moneta creata ma oltre al mercato immobiliare che in un certo senso è un bene fruttifero poi appunto dicevo dipende com'è l'investimento per molti casi neanche erano fruttiferi cioè si comprava l'appartamento si lasciava lì nell'ottica che aumentasse di valore e rivenderlo a più ecco perché ho fatto l'esempio di Manhattan di quel tipo di grattacieli ma ovviamente parliamo di proprietà immobiliari di pregio in tutto il mondo di anche caratteristiche molto eterogenee quindi dipende però c'è stato tutto quella così corsa agli investimenti in settori come magari metalli preziosi l'oro che ha aumentato quasi 2000 dollari l'oncia settori anche tutto legato al mondo delle collezioni oggetti d'arte auto d'epoca figurine magari storiche c'è anche oggetti così particolari orologi di lusso se ricorderete è stato proprio il boom gli ultimi fino a un anno fa così un anno e mezzo fa adesso le quotazioni seppure restano alte cominciano leggermente a scendere e si vede quasi una correlazione in un certo senso seppure sono mercati con ognuna le sue caratteristiche le sue mode un miliardo di variabili autonome però un trend in un certo senso abbastanza non dico sovrapponibile ma quasi con quello dei tassi di interesse appunto per questo motivo perché magari ecco l'investimento anche nell'orologio di lusso è una speranza per esempio che aumenti o l'auto di lusso o qualunque cosa di bene rifugio o anche un immobile appunto comincia a essere sempre meno attrattivo soprattutto in un mercato che è percepito comunque con prezzi già molto alti saliti molto rispetto appunto a tassi di interesse che si abbassano ecco perché ho fatto tutta questa descrizione ma è fondamentale per capire perché è importante ogni volta ci fai un video su questo sembra sempre lo stesso tema ma è vitale perché basta una parola in più in meno interpretata in un certo modo di questi pseudo oracoli moderni per improvvisamente cambiare le sorti di tutti questi mercati tutti insieme nel giro di un giorno non è che c'è stato un drastico aumento e diminuzione ma proprio hanno pensato le parole e si percepisce ecco questo grande nervosismo e dicevo è importantissimo l'effetto delle aspettative e volevo chiudere il video con un esempio di questo articolo che ho fatto quotidiano di ieri sì di ieri praticamente diceva il titolo proprio diciamo a tema di quello che stava per succedere proprio con un tempismo incredibile primo calo dei tassi sui mutui dopo due anni di aumenti è l'effetto del cambio di rotta della BCE ma qualcuno che legge potrebbe dire ma Banca Centrale Europea ha abbassato i tassi di interesse in realtà no sono sempre a quel livello allora perché si diminuiscono i tassi dei mutui e qui lo spiega appunto magari molti di voi lo sanno ma lo leggo per chi magari nel dettaglio non conosce questo è un canale che vorrebbe cercare di semplificare e spiegare appunto concetti che magari possono sembrare complicati e qui dice appunto finalmente un sospiro di sollievo per le famiglie con un mutuo e per quelle che si apprestano ad accendere un mutuo dopo 24 mesi di continui rialzi delle rate dei tassi in dicembre si è registrata la prima inversione di rotta i tassi medi sulle nuove erogazioni sono scesi dal 4,4% dal 4,5% di novembre niente di eccezionale scrivono loro ma un segnale importante che dovrebbe preludere l'importante ulteriore i cali nei prossimi mesi invece vedremo ma ecco già dalle dichiarazioni di oggi è tutto rimesso in discussione ma perché appunto è avvenuto questo calo qui lo spiegava poi vi invito a leggere nel dettaglio ma insomma c'è l'associazione bancaria italiana precisa che da un punto di vista tecnico il ribasso è influenzato dall'andamento del mercato dei tassi IRS sceso nelle scorse settimane su cui si basano i mutui a tasso fisso anche se restano le incognite geopolitiche vabbè qui poi spiega tutto così l'ABI rileva inoltre che su un totale le nuove erogazioni di mutui il 62,5% erano mutui a tasso fisso mentre era il 79,3% il mese precedente quindi insomma molti adesso puntano probabilmente sul variabile anche perché c'è questa forte aspettativa data quasi per scontata e io dico sempre personalmente reputo molto pericoloso quando tutti danno per scontato qualcosa di futuro perché tante volte proprio perché lo danno tutti per scontato non avviene quindi probabilmente molti dicono vabbè ormai i tassi hanno raggiunto l'apice ce lo ripetono da mesi e quindi possono solo scendere magari a quel punto c'è l'incentivo a fare un mutuo a tasso variabile ma insomma come abbiamo visto le cose cambiano velocemente in poco tempo quindi c'è avuto meno attrazione ecco sui mutui quindi c'è il tasso medio sui nuovi prestiti in euro alle società non finanziare è salito al 5,69% e ricordava che era 1,44% a giugno 2022 quindi immaginate quattro volte quasi cinque volte l'aumento cioè che uno deve vedere vabbè dall'1,4% al 5,60% parliamo che quadruplicano quel tipo di costi quindi ecco dall'idea anche dell'appesantimento della zavorra e sempre su una prospettiva storica interessante giustamente ricordano che erano al 5,48% a fine 2007 quindi c'eravamo abituati a questa degenerazione ma questa era la normalità del costo del denaro qui dice appunto il tasso medio ponderato sul totale dei prestiti a famiglie e società non finanziare è risultato invece stabile al 4,76% anche qui da una prospettiva giugno 2022 era 2,21% quindi raddoppiato circa era al 6,16% a fine 2017 qui diceva che la BCE ridurrà il costo del denaro nei prossimi mesi dato quasi per scontato ecco questo ha detto proprio un articolo proprio le ultime parole famose seppure non è che hanno smentito prima o poi lo faranno ma ecco i prossimi mesi bisogna capire quanti i prossimi mesi saranno più difficile capire ecco lo dice anche l'articolo le entità e il numero di tagli che dipenderanno infatti giustamente anche dall'andamento dell'inflazione e della crescita economica il rialzo dei tassi negli ultimi anni ha consentito alle banche di fare profitti record anche perché il trasferimento dei benefici ai depositanti è stato estremamente lento e limitato io in alcuni casi conti correnti direi quasi inesistenti come rimproverato agli istituti dalla stessa BCA beh BCA forse BCA non lo so se hanno non so che intendono e comunque vabbè poi lo continuo invito a leggere l'articolo ve lo metto qui sotto in descrizione quindi fa capire perché è importante e soprattutto perché si riducono questi tassi se la banca centrale non ha ridotto perché il mercato IRZ appunto è un mercato si basa sulle aspettative degli operatori ecco perché comunque si muovono questi tassi al di là di quello che fa la banca centrale europea non è che impone un tasso per legge quel tasso minimo in alto in basso condiziona poi ovviamente di riflesso tutti gli operatori privati ma il mercato diciamo in teoria resta privato e opera in maniera autonoma dalla banca centrale che interviene solo in singoli case ecco come prestatore di ultima istanza eccetera eccetera adesso non entro nel dettaglio ma insomma è un mercato quindi le aspettative ecco sull'andamento dei tassi di interesse già si ripercuotono sul mercato di mutui ma in generale dei prestiti prima ancora che avvengano ecco perché è fondamentale importante ecco perché ogni singola parola ogni dichiarazione è importante ecco perché il paradosso per cui magari quando a volte la banca centrale muove i tassi di interesse in alto in basso magari c'è anche un effetto opposto perché semplicemente magari se quella mossa era prevista e scontata quando avviene non è che condiziona molto il mercato perché già diciamo è stata anticipata faccio notare anche il tasso l'andamento dei tassi euro-dollaro l'euro diciamo si è leggermente svalutato rispetto al dollaro in particolare probabilmente quando la banca centrale americana ha cominciato a dare indicazioni di non rialzare i tassi di interesse c'è di non sì scusate di non ridurre i tassi di interesse così rapidamente in un certo senso il dollaro si è apprezzato perché significa che ovviamente investendo in dollari i tassi resterebbero a questo livello per un periodo più lungo e quindi rispetto a altre valute che poi il cambio va sempre valutato rispetto a un'altra magari rispetto all'euro poco a sconvenire diciamo magari il rendimento è maggiore su un titolo di Stato americano che su un euro e quindi si aggiusta viceversa a seconda come la banca centrale europea si muove se anche magari la banca centrale europea ovesse dire non abbasseremo i tassi pensiamo di alzarli a quel punto il rendimento su investimenti in euro aumenta e quindi magari l'euro si potrebbe apprezzare rispetto al dollaro ecco quindi è da notare interessante questo rapido movimento cioè relativamente rapido ricordo che vedevo a fine dicembre era praticamente addirittura il cambio a 1,11 euro per do cioè diciamo un euro compravo 1,11 dollari adesso è 1,09 non è drastico ma considerando la dimensione delle due valute è una differenza molto significativa e quindi ecco diciamo soprattutto negli ultimi giorni era oltre diciamo circa 1,10 già il 14 gennaio adesso è 1,09 insomma è sceso diciamo anzi 1,08 è qualcosa addirittura vado su uno più preciso perché questo di Google vedo che ha molto eccolo qua sì da 1,08 e 74 infatti ecco era circa 1,10 quasi 1,10 fino a qualche giorno fa quindi insomma un cambio significativo è sceso l'euro è aumentato il dollaro ieri poi con queste dichiarazioni dalla Garda vedo che già si è un pochino rialzato adesso il cambio è sostanzialmente invariato diciamo più o meno 1,08 73 74 ma insomma dà l'idea ecco di come cambia e è curioso perché un discorso analogo con la sterlina cambio sterlina dollaro vedo che sta aumentando di più 0,37 1,26 quello è un cambio diciamo che noi usiamo poco da europei però è interessante che sta aumentando anche lì perché se andiamo a vedere è arrivata la notizia proprio oggi un po' a tema diciamo che la inflazione nel Regno Unito poi ve lo metto in descrizione è aumentata diciamo il tasso di inflazione è al 4% dovuto soprattutto agli aumenti dell'alcol di tabacchi e diciamo questo preoccupa abbastanza perché così l'aspettativa appunto era diciamo minore insomma in particolare a novembre addirittura era scesa al 3,9% l'inflazione quindi comunque questo aumento seppure piccolo diciamo va un po' contro tendenza preoccupa molto e poi vi metto l'articolo con tutti i dettagli diciamo comunque ecco l'inflazione ecco CP quindi diciamo Consumer Price Index al 4% l'inflazione quella core esclusi tutta una serie di beni è al 5,1% però ecco diciamo questo calo che stava continuando a un certo punto vedete il grafico leggermente scena poi leggermente rialza leggermente la testa e questo già innervosisce potrebbe temere far temere quantomeno un rallentamento magari diciamo nell'aspettativa che la banca d'Inghilterra riabbassi i tassi di interesse o comunque magari che lo ritardi eccetera quindi già questo un po' in linea con quello che già sono le dichiarazioni banca centrale americana banca centrale europea anche per il Regno Unito farebbe per suggerire questo e quindi probabilmente ecco il pound inglese diciamo sterlina leggermente aumenta di uno 0,40 che non è poco sul mercato dei cambi per valute così grandi appunto aumenta rispetto al dollaro perché appunto l'aspettativa della riduzione magari viene rinviata comunque ridotta e quindi a quel punto di nuovo il rendimento degli investimenti in sterline diciamo rispetto al dollaro magari diventano più convenienti è un ragionamento assurdo illogico perché uno molte volte dice ma come se l'inflazione o anche solo le aspettative aumentano quella valuta dovrebbe valere meno perché si svaluta però dal punto di vista estero l'inflazione interessa chi vive il paese dal punto di vista degli investimenti si guarda il rendimento di quella valuta quindi chi compra sterline di solito compra sterline dollari euro quello che sia compratitori di stato emessi in quelle valute che hanno rendimenti diciamo magari più alti a quel punto in teoria se l'inflazione è più alta e quindi magari diventa più conveniente rispetto a un'altra valuta l'investimento in quella o in quell'altra quindi tassi di cambio per questo ne risentono molto infatti ecco è interessante invece euro sterline inglese appunto infatti scende guarda caso di uno 0,40 più o meno infatti il tasso euro dollaro è quasi invariato se vedete tutto ridisce più o meno la sterline rispetto al dollaro aumentano 0,40 l'euro rispetto alla sterlina quindi invertito dovresti invertire perdono 0,39% e euro dollaro rimangono quasi uguali un po' come una sorta di proprietà transitiva no a sta a b o a uguale a b come b uguale a c quindi a uguale a c insomma ecco facciamo un po' di logica e quindi da l'idea di questa solo così leggermente aumento della inflazione che comunque invece in Europa e negli Stati Uniti secondo gli ultimi dati non c'è stata che già è bastato per così far aumentare la sterlina paradossalmente ma non è un paradosso è probabilmente questo ragionamento quasi eppure come dico sempre le variabili sono numerose eterogenee tante e spero ecco così sia stato utile appunto in questi giorni un po' confusi dare questa valutazione e vediamo poi come evolverà al di là delle parole poi come evolveranno i fatti interessante anche il mercato brevemente le commodities l'oro vabbè in realtà non è che perde molto 0,08% mentre magari argento meno 0,7% platino 0,50 e poi tutta una serie di altre commodities che invece per esempio ieri ha perso molto il gas naturale un pochino meno il petrolio eccetera però anche lì darebbero suggerimenti così di un mercato che magari può cominciare a temere qualcosa di rallentamento proprio dell'attività economica ma ancora è presto dirlo e come società diciamo specifiche evidenzio il caso di Boeing che ha avuto un crollo abbastanza significativo e a catena si è trascinata tutta una serie di altre compagnie aeree americane che hanno molti di queste aeree appunto sempre per la ormai odissea del famoso 737 l'aereo Max aereo molto utilizzato perché appunto è piccolino ma massimizzava lo spazio interno eccetera molte compagnie aeree anche credo Ryanair insomma tante anche americane di tutto il mondo lo hanno acquistato perché era un ottimo aereo come appunto efficienza come utilizzo dello spazio grandezza adeguata per certe rotte eccetera ma poi tutta una serie problemi tecnici incidenti aerei tragici eccetera hanno messo in stop questo aereo qualche anno fa già Boeing ha avuto questo edissea un prezzo che era calato poi dopo aumentato un pochino diciamo si era ripresa negli ultimi mesi in maniera anche significativa anche perché non è che fa solo aeree famosa per aerei ma c'è tutto il settore della difesa tutto il settore spaziale eccetera quindi ovviamente è un colosso e diciamo risentiva molto positivamente anche degli investimenti purtroppo anche degli eventi bellici eccetera però comunque diciamo ha risentito moltissimo negli ultimi mesi di questa tragedia perché comunque il suo core business diciamo sono sostanzialmente gli aerei ricordo comunque ecco nel 2020 fine 2019 eccetera era quotata oltre a 400 dollari dopo vabbè dopo ci fu diciamo il crollo nel 2020 poi si era ripresa comunque quasi a 300 e poi dopo era scesa dopo era risalita negli ultimi mesi significativamente adesso quest'ultimo incidente che ha rimesso in stop questi aerei e tutto crea molti problemi alla società e di conseguenza anche a tante compagnie aeree che hanno comprato questo tipo di aerei poi oltre a questo aspetto diciamo specifico c'è anche un discorso diverso del così l'effetto boomerang anche di tutta una serie di guerre economiche in particolare con la Cina oltre che quelle con la Russia e le sanzioni ce l'abbiamo visto l'effetto boomerang che c'è stato per soprattutto l'Europa meno per gli Stati Uniti diciamo sul costo dell'energia sull'inflazione sul disastro soprattutto in Germania economico poi vi metto degli articoli in descrizione adesso non ne parlo ma insomma continua la grandissima crisi economica in Germania rispetto a come era la locomotiva d'Europa non è che sono ovviamente al disastro tutt'altro ma hanno avuto una botta micidiale soprattutto in questo inverno freddo era il costo dell'energia aumentato per via delle sanzioni la Russia Russia che non ha avuto particolari problemi economici invece e un po' il discorso analogo con la Cina partendo probabilmente da una logica tutto sommato comprensibile di dire freniamo il loro sviluppo che diventa sempre più minaccioso a livello geopolitico e militare quindi magari cominciano a mettere l'embarghi tecnologici su mille cose però ha fatto sì che la Cina diciamo ha cominciato a creare dei settori in maniera sempre più autonoma abbastanza di successo insomma ecco un po' forse già con le informazioni che aveva un po' comunque autonomamente quindi avevo già parlato di questo costruttore aereo cinese adesso non ricordo il nome è una sigla comunque che sta sfornando aerei a basso costo sostanzialmente analoghi a quelli Airbus o Boeing che avevano il monopolio fino ad oggi aerei di linea e questo aprirebbe un mercato questo produttore cinese pensava a tutti i paesi BRICS in via di sviluppo Africa Sud America ma non solo magari anche in occidente un domani chissà intanto toglie potere anche diciamo di embarghi geopolitici all'Airbus e alla Boeing quindi diciamo quelli occidentali ma poi potrebbe togliere i quote di mercato enormi rispetto al monopolio che sostanzialmente quasi avevano e quindi ecco è un qualcosa che va valutato e è un esempio di come tante volte magari dicevo anche sul mercato immobiliare il 110 magari con le migliori intenzioni si fanno i danni maggiori tante volte ecco quindi vedremo anche come evolve questa situazione ma peggiore ulteriormente comunque un quadro in cui già questi grandi produttori quindi non solo Boeing che ha avuto questi problemi ma anche Airbus hanno avuto insomma fatemi sapere ecco io spero sia stato un video comunque eterogeneo ma c'è tutta un po' una linea univoca e come sempre vi saluto e vi ringrazio ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti